www.redigio.it e la storia continua Siamo a Milano, è uno degli ultimi mestieri. In Milano era quello del brumista. L'ultimo brumista per Franco Tanzi Mira Dopo aver giù che l'ultimo brumista di Milano, Michele Maggi, alla fine del 2011 li sta obbligare a ritirarsi, Lui con i suoi cavalli è venuto un gran magone. Mi ricordo che quando ero a Pinela sono andato a spazio con la mia gente in carrozza che la partiva da Piazza del Dom e che morse. Adesso a Milano vanno tutte le corsa, a Pia, in macchina, in moto, in bicicletta. Perfine con i pattini e i tavoli con i ruoli, ma nessuno e non va più in carrozza. Sì, a Gine di Tram, gli autobusi, il metro, ma andate con i carrozza, allora è tutta un'altra roba. Niente che vede con i tassi del dito in che, saremo per l'intruscia e che ti fanno vedere un nagotto. Almeno per i turisti, bisogneria che il Comune andasse a organizzare i carrozza per portare a spazio la gente che vuole vedere Milano più seromantica. Ma con l'aria che la tira al dito in che, mi sono sicuro che il sindic e la compagnia bella addisiranno che anche i cavalli inquinano. Conto i loro scrementi e conto il fià che emetano quando curano. E quando dovrebbero pagare, anche loro, l'eco pass, quando vengono dentro all'area C. Che è la più bella. Ma la sarei anche ora da finire con il tistuzio balzello. Se mi fossi il sindaco di Milano, faria come fa per i bicicletti, di spazi e riservati per andare in carrozza. Sì, tommo per loro. Inci, mi sarei sicuro che vengono le vetture nel podere a Ves e il Michele Maggi. Mi parliamo da vedere, sciupare di gioia a tornare a fare il premista con i suoi due cavalli, l'olmo e l'otto. Che bella cosa sarebbe. www.redigio.it E la storia continua.